Le foto e i video della frana non lasciano dubbi. Ci sono lesioni profonde e pericolose sul costone roccioso con tanti massi ancora pronti a venire giù. Dopo l'amara sorpresa di ieri dall'ispezione dei rocciatori e dei droni, oggi si registra una prima buona notizia. La regione Campania ha stanziato i primi 150 mila euro per la messa in sicurezza. Alle 9 in prefettura domani ci sarà una riunione operativa proprio per fare un punto della situazione, mentre sul luogo della frana ci sarà un esperto della regione per compiere un sopralluogo. Proprio stamattina abbiamo saputo che la regione ha stanziato 150 mila euro per il primo intervento, quello di somma urgenza, che noi andiamo a fare sul territorio dei Maioli. Consiste nel rimuovere un pochettino quei massi che sono ancora in bilico e ispezionare un pochettino i 13 mila metri quadrati di terreno interessati dalla frana. Ad aiutare il vostro lavoro e anche a fare un bilancio, domani ci sarà anche il sopralluogo di un esperto. Sì, domani mattina verrà un geologo esperto sulle frane dove ci farà la fotografia dello stato dei luoghi e ci dirà quale opere noi dobbiamo continuare a fare per mettere poi in sicurezza la costiera e il tratto in questione.